Ragazzi bene ritrovati dal vostro amico l'IP2L200, siamo qui oggi su Dishonored ragazzi, siamo qui dopo che ieri abbiamo ucciso la Contessa lì, la Lady qualcosa, non mi ricordo manco come si chiama, scusatemi un attimo e massacro questi ratti E adesso scappate eh, l'ure di mangiatori di topi, no l'ure di topi mangiatori di persone Comunque siamo qua, siamo alla Dunwall Tower, dobbiamo uccidere il Lord Regente perchè praticamente è molto vulnerabile, ci hanno detto, perchè ha perso la fiducia dei sacerdoti, non ha più soldi e il tizio che ha costruito e progettato le difese l'abbiamo mazzetto E ecco Ok L'abbiamo resettato e ora full minerale, guardi, perfetto Ha perso un botto di vita Dannato arco elettrico Gli archi elettrici sono ritornati Beh questa volta abbiamo Abbiamo messo una bella sorpresina per le guardie Ok, l'abbiamo incenerito Ma va bene così Ok, andiamo avanti Senza fare troppo bordello Ok, vediamo Non co... Figlio di E io fin là su ci devo risalire ma state scherzando Ma state scherzando Ma state scherzando Ma questo gioco tante volte mi sorprego No ok, scusate ma Mi hanno buttato giù quelle teste di cazzo delle guardie Non mi ricordo neanche più la strada che avevo fatto Quindi andiamo alla grande Ok Quella arco elettrico lì mi ha alleato Cioè ho speso tutti i soldi per potenziare la balestra Questa buona balestra non è ancora potentissima Figa che edge Cioè l'ho vaporizzato Almeno di così Ok Ok, alterato Ma che... Tu metti i risassi Ecco Ecco Senza essere teoricamente fulminato Ma perché sono stato fulminato Se il coso l'avevo hackerato Se quel coso lì l'avevo hackerato In modo tale che diceva Fulmini le guardie E non fulmini me Perché cazzo sono stato fulminato io Ecco fatto E questo è sistemato Venici ciao archelettico Attenzione al personale della Dumbletown La recluta è faccia un rapporto allo studio Un risultato di servizio Ninja I am a mortal kombat però È stato fulminato di servizio È stato fulminato di servizio zitto io ora dovevo andare io ma laica ninja cosa cosa c'è qualcosa di grosso fa un culo torre di guardia ecco cosa a me è meglio una torre di guardia che quello grosso no c'è anche quelle è quello come amiche si batte eh madonna ma quello vede anche a casa di dio talmente tanto è alto ma dai ma questa è nera g e che cazzo muori porco cazzo ma vaffanculo chi riesce è morto cazzo abbiamo inventato sta invasione nella nella downward tower vaffanculo 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 sono entrato un attimo eh generale generale che succede laggiù generale generale aspetta aspetta amico sono un tizio alla cerca della sua vendetta lasciami stare bene ragazzi siamo arrivati anche alla fine per questo video su disonored noi ci rivedremo domani stesso appuntamento sullo stesso gioco stesso appuntamento sullo stesso gioco ci rivedremo sul disonored e che siamo già dentro sul dunwall tower ragazzi arrivare fin qui non è stato facile però mi sono divertito parecchio massacrare questi bastardi bene dire che alla fine votate commentate e al prossimo video ciao state pure tranquilli di una cosa non penso che gli altri video non faranno massacri tranquilli anche questo per oggi abbiamo fatto il nostro piccolo massacro lo faremo anche domani bene guardate commentate e al prossimo video ciao